Volevo farti vedere alcune slide e fartele commentare perché in questi dieci giorni, in questa settimana, sono successe le cose che comunque riguardano quello che è il tuo ambito di interesse principale, cioè il contatto con entità extraterrestri. In riferimento a questa cosa, guarda, vi faccio vedere queste slide che sono poi articoli sostanzialmente apparsi sui maggiori quotidiani online. Si parla del generale israeliano Haim Ashed che ha rilasciato una dichiarazione alquanto spiazzante. Immediatamente, subito dopo questa dichiarazione, che poi ti chiederò qualcosa, mercoledì scorso, stranamente, non so, tu ti occupi di questo, ecco perché ti sto chiedendo questa cosa, sulla 7 compare una trasmissione insolita realizzata dal giornalista Purgatori, ti faccio vedere, la conoscerai su Atlantide, su quel punto dove anche già con un titolo a cominciare, insomma, con un po' di ironia si parlava, appunto, ci mancavano solo gli extraterrestri. Saprai bene che, insomma, il cuore della trasmissione viene realizzato con l'intervista di Stephen Green, bellissimo documentario, però prima e dopo vengono invitati dei personaggi assolutamente incompetenti dal punto di vista della materia ufologica, Carlo Ravelli e altri, un generale della Guardia di Finanza, e per finire, guarda, l'ho messo qua, io poi ti chiedo, cioè la chicca finale è stato uno youtuber, che è un genio veramente, insomma lo conoscerai, questo signore barba scura, che ha voluto in qualche maniera dare il suo contributo. Ecco, l'idea è questa, come può una informazione di questo tipo dover subire attacchi a destra e a manca, tra l'altro di persone, io mi aspettavo che in trasmissione ci andava qualcuno, magari ci andavi tu, Roberto Pinotti, Lavinia Pallotta, cioè persone che si occupano di questo argomento, non un emerito sconosciuto in tema ufologico. Perché si continua a postulire questo genere di comunicazione, Pier? Ma a parer mio, intanto io ho scritto un articolo che trovate sia nel mio sito ufficiale che nel sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni, è il titolo del mio articolo, già la dice lunga su come ha affrontato il tema, te lo posso dire se vuoi Francesco, il titolo è L'ineffabile faccia di bronzo del potere. Che è quello di cui parleremo stasera, quindi. Sì, poi il titolo è anche un po' più lungo, adesso non me lo ricordo per intero, l'ineffabile è qualcosa, comunque la faccia di bronzo del potere, che ovviamente seppur io l'ho presa in tono un po' ironico, la storia perché prendere sul serio le affermazioni del giornale, del ex generale Aymes Cid, ex capo del Ministero della Difesa per quanto riguarda la difesa spaziale, quindi un personaggio di altissimo livello istituzionale, non è a parer mio un caso. Prima di tutto non è mai... Ah ecco, grazie il mio suggeritore Fabio. L'ineffabile e tragicomica faccia di bronzo del potere. Questo è il titolo dell'articolo che ho scritto. Dicevo, gli israeliani, seppur la loro politica è una politica di fatto criminale, con le persecuzioni che fanno ai palestinesi, i crimini che commettono attaccando la Siria, violando uno Stato sovrano, eccetera, su cui poi nessuno ha il coraggio di dire nulla, tantomeno le altre facce di bronzo che siedono nel nostro Parlamento italiano, dove una Repubblica che ripudia la guerra, di fatto appoggia tutte le guerre dell'Impero, quindi già siamo in una ottima posizione da un punto di vista dell'etica, della morale o semplicemente del rispetto della nostra sacra Costituzione. Ma il fatto che ci siano state in questi giorni, intanto le dichiarazioni di Escheid hanno fatto il giro del mondo, ne hanno parlato tantissimo, ne ha parlato la Rai, ne hanno parlato le altre televisioni, ne hanno parlato le tv americane, quindi seppure... La BBC ha fatto un'interrogazione, cioè ha chiesto delle delucidazioni proprio a Trump, la BBC ha fatto una richiesta di delucidazioni ufficiali, diciamo alla Casa Bianca. Non ne è stato dato, però insomma le ha fatte. Certo, c'è stato un no comment. Trump sappiamo benissimo che gli israeliani ce li ha in casa, perché il marito di sua figlia, il compagno di sua figlia, adesso non ricordo se siano sposati, è un importante personaggio che viene da quella nazione. Ma a parer mio sta accadendo qualcosa e sono segnali di timore, perché le dichiarazioni dell'ex generale Escheid sono, definirle ridicole, assurde e poco. Cioè gli alieni sono alleati, sono in contatto con gli americani e gli israeliani, hanno fatto un patto con gli americani per fare esperimenti nel nostro pianeta, esiste una base su Marte dove ci sono solo americani e alieni, insomma un cumulo di sciocchezze, che però sono un segnale importante, perché seppure io posso non essere d'accordo con la politica di Israele, ma io ammiro Israele per la grande serietà con cui affronta anche crudele, una serietà crudele, omicida spesso, basti pensare all'assassinio del generale iraniano e altre situazioni che comunque in modo più o meno palese coinvolgono questo Stato, però di fatto è gente seria, è gente che quando fa qualcosa, in questo caso mettendo sottilmente in burla il discorso extraterrestre, si vede che c'è qualcosa che bolla in pentola e un qualche forse timore, che poi questo discorso rimbalza in Italia, è un giornalista serio, io apprezzo molto che Purgatori, che quando si interessa di mafia, dimostra coraggio, si infatti in gambissima, molto in gamba, e poi tira fuori una trasmissione ridicola come quella che ha tirato fuori, ma siccome io vengo dal mondo televisivo e so bene come si muovono certe cose, presumo che lui, pur di tirar fuori il meraviglioso documentario di Stephen Grier, abbia dato un colpo alla botta e un colpo al cerchio, perché quella pletora di saltimbanchi, gioccolieri e quacquaraquà, maschi e femmine che si sono visti prima e dopo il documentario, è tutta gente che dovrebbe vergognarsi solo di essersi offesa con le parole che hanno espresso, perché dei somari incompetenti, gente che non c'entra nulla, è come invitare un macellaio a parlare di giardinaggio, cioè non c'entrano nulla, questa è gente che non sa nulla di ufologia, è gente che non fa altro che portare avanti i soliti stereotipi stupidi, degli ignoranti, degli imbecilli e le menzogne del sistema, tra l'altro con quella spocchia e quella supponenza che al confronto alla serietà di un somaro che tira il carretto è molto più da elogiare, quindi questa gentaglia è messa lì, sono dei figuranti, sono dei prezzolati, seppur non in senso diretto come finanziario, ma è gente che è messa lì per fare questa sceneggiata, vergognosa. Io mi ricordo nell'anno 2000, credo che partecipai a un programma televisivo della RAI e ospite in collegamento esterno dagli studi di Trieste c'era la buonanima della Margherita Hack che a un certo punto persona, tra l'altro io ho sempre apprezzato tantissimo per il tenore del suo senso etico, sociale, ma quando si avvicinava al mondo degli UFO scadeva in un livello di bassezza, di pochezza, di qualunquismo e di spocchia che era veramente scandaloso e quindi la signora a un certo punto mi ricordo che il conduttore era come si chiama, quello che parla romanesco, adesso mi sfugge il nome, più tardi magari mi verrà, era sulla RAI 3 se non erro. A un certo punto a Usciorina una tale sequela di fesserie del tutto inventate, totalmente in contrario, in opposizione a quella che era la storia dell'ufologia che io alzai la mano e chiesi scusate, posso rispondere? Il presentatore, il conduttore mi diede la parola e io rivolgendomi direttamente alla dottoressa lei disse guardi dottoressa io lo rispetto tantissimo ma lei ha detto una sequela di fesserie che non stanno nel cielo e in terra rispetto alla vera storia dell'ufologia e lei se ne uscì con questa risposta dandosi una bella zappata sui piedi ah ma mica io ho tempo di studiare queste fesserie al che io gli disse ma scusi dottoressa se lei è qui e non è esperta nel merito che ci sta a fare visto che lei stessa che dice che queste cose non le ha studiate quindi la sua parola la sua versione dei fatti è assolutamente inconsistente e lei strabuzzò gli occhi e la bocca rimase di fatto folgorata come San Paolo sulla via di Damasco e praticamente lei si strozzò la voce in gola e chiusero il collegamento perché fece una figuraccia ammettendo lei stessa che il tema non lo conosceva non l'aveva studiato e aprioristicamente arrogantemente lo bollava di essere un tema poco serio assoluto ora già l'idea è ridicola che un astronomo che usa dei telescopi che sono fatti apposta per per vedere galassie quindi sistemi e agglomerati immensi come grandezza e poi li invitano perché pensano che uno che guarda le galassie vede i dischi volanti ma è come è come usare un cannocchiale in casa per cercare la zanzara è ovvio che non la vedrai mai non è fatto per quello quindi c'è un c'è un atteggiamento sciocco stupido è ridicolo da parte dei giornalisti e si fanno forti solo dei luoghi comuni che tutti dicono che gli UFO sono una sciocchezza e quindi tutti dicono la stessa fesseria e allora un branco di imbecilli quando si trova in branco si sentono forti e non si rendono conto che in realtà stanno facendo delle figuracce di fronte alla vera intelligenza e alla vera professione che dovrebbero esprimere sia i giornalisti che gli scienziati purtroppo Francesco come tu ben sai sono due categorie in avanzato stato di estinzione non se ne trovano più assolutamente gente prezzolata gente che bacia le chiape del potere e che come i cani ammaestrati obbediscono all'ordine del padrone questa è la situazione che c'è in Italia e nel mondo siamo scaduti a livelli veramente demenziali assolutamente quindi e termino la risposta l'uscita di queste esternazioni dell'ex generale ai maschid secondo me nascondono un timore perché il potere non parla mai a caso di extraterrestri perché la informazione la diffusione di notizie sulla realtà extraterrestre già dal 2013 è stata ufficialmente definita Davos come uno dei cinque fattori X in grado di far crollare il sistema quindi se personaggi importanti di stati potenti che condizionano l'intero scenario mondiale o quasi tutto l'intero scenario mondiale o direttamente o attraverso gli Stati Uniti d'America se se ne escono con queste informazioni significa che hanno paura quindi queste manovre indicano paura da parte del potere perché non dimentichiamoci un fatto importantissimo a partire dal 2017 il Pentagono ha ufficialmente ammesso che c'è una aviazione avanzatissima evolutissima assolutamente soverchiante rispetto alle capacità tecniche dei loro caccia più moderni che irrompe beatamente senza che loro ci possano fare nulla nel teatro delle loro esercitazioni militari con presenza addirittura di portaerei nucleari quindi stiamo parlando di qualcosa di molto grave di molto grosso da un punto di vista della logica militare cioè la nazione più potente del mondo non può fare nulla quando questi oggetti totalmente non convenzionali privi di motori privi di emissioni di calore privi di qualsiasi cosa che somiglia all'avionica dei nostri aerei che esegue delle manovre pazzesche tipo viaggiare a 38.000 km orari in atmosfera o accelerazioni fino a 17 18 G cosa che spiaccicherebbe qualsiasi pilota sulla carlinga dell'aereo rompendo lo stesso aereo con manovre assurde a 90 gradi o ad angoli ancora più acuti quindi questa missione ufficiale dal 2017 fino ad aprile di quest'anno dove ancora il pentagono conferma che sia le testimonianze dei piloti e sia i filmati rilasciati sono assolutamente reali però abbiamo visto che in questi anni questa rivelazione era seguita dall'appellativo dalla definizione di minaccia quindi hanno rivelato ma dicendo che questi oggetti questa presenza chiaramente intelligente addetta degli stessi piloti è una minaccia ma è una minaccia per loro non certo per i popoli della terra ora questa rivelazione secondo me non sta ottenendo i frutti sperati forse si sono accorti di aver detto troppo forse si sono accorti che la cosa sta prendendo piede nel senso opposto da loro desiderato e allora stanno cercando a parer mio di ributtare tutto in vacca affinché nel grande calderone delle sciocchezze ci finiscono anche le cose serie questa è la mia idea ecco perché i saltimbanchi i quacquaraquà i gioccolieri e tutta questa plettora di personaggi assolutamente ridicoli si espongono poi nelle televisioni nazionali a dimostrare al mondo che non sono persone in grado di ragionare non sono veri scienziati non sono veri ricercatori assolutamente